Al San Marco di Pescara il Delfino Flacco Porto ospita il Capistrello per il quarto turno di eccellenza Bonati privo dello squalificato Silvestri si affida al tandem Petra e Petrarulo Giordani non schiera dal primo Cirelli affaticato in settimana ha saltato due allenamenti sono Franchi e Fulvi i terminali offensivi venendo al match partita da subito scoppiettante 12esimo Calore e Super Fulvi per Franchi dai 12 metri provvidenziale l'intervento dell'ex Teramo al 18esimo il Capistrello trova il gol del vantaggio De Meis Pennella per Fantauzzi colpo di testa vincente Abazai nella sezione dell'Aquila però ravvisa una giusta posizione di offside e dunque il punteggio rimane sullo 0-0 il Delfino c'è prima Blasioli destro alto poi in crocio di Petra che sfiora la traversa il preludio che porta al gol al 28esimo palla di Falco per Petrarulo che supera con un pallonetto delizioso Fanti e firma l'1-0 nel giro di 6 minuti arriva anche il raddoppio spiovente di Marzucco per la sponda di Petre con Gobbo che di testa deve solo depositare in rete il 2-0 e fa calare i titoli di coda della prima frazione nella ripresa succede davvero poco Cirelli appena entrato al nono non trova la porta poi è Petre al 15esimo ad avere lo stesso risultato alla mezz'ora di Girolamo libera di Francesca Antonio tiro fuori di Montedorisio assegna 7 minuti di recupero nel mezzo Tine Morin contropiede la mette al centro per D'Alessandro Rozi libera ma nel tentativo di farlo interviene su Fanti duro colpo alla testa per l'ex Avezzano che rimane a terra dolorante ma riesce addirittura all'ultimo istante del match a negare in uscita la gioia del gol a planamente termina dunque così un 2-0 tra il Delfino Flacco Porto e Capistrello Portuali trovano i primi tre punti stagionali con l'identico risultato dell'ultimo match nel 2019 al San Marco tra le due compagni che termina proprio con il risultato di 2-0 diciamo che il calendario non era proprio fatto per stare proprio in classifica all'inizio quindi abbiamo raccolto quello che abbiamo meritato perché poi alla fine i conti si fanno alla fine del campionato di questo mini campionato oggi abbiamo meritato la vittoria anche se Capistrello ha avuto la prima occasione clamorosa il calore ha fatto una grande parata poi ci ha concesso qualche ripartenza di troppo dove noi siamo stati bravi a comprendere anche gli errori delle scorse settimane e poi il secondo tempo ovviamente era la terza partita e sapevamo che ci poteva essere stanchezza perché nella prima sei brillante magari le motivazioni delle prime partite oggi poi anche l'infortunio di Petrarulo ci ha tolto un po' di pericolosità offensiva per cui abbiamo dovuto spendere più energie per ottenere il risultato ma l'abbiamo fatto bene concedendo il giusto forse potevano anche fare gol in alcune occasioni però anche noi in ripartenza potevamo chiuderla quindi credo che sia sostanzialmente una vittoria meritata e andiamo avanti alla prossima sì e no nel senso dicevo prima abbiamo pagato tutte le pecche che abbiamo commesse due errori gravi e due gol a questa categoria è così errori di gioventù vista la linea difensiva era un 2003 cioè i due centrali un 2003 e un 99 un 2000 a destra e un 99 a sinistra quindi è questo il concetto il primo errore l'abbiamo pagato poi sì siamo un po' disuniti fino alla fine del primo tempo poi al secondo tempo loro si sono difesi hanno fatto la loro partita noi abbiamo provato c'è stato qualche sprazzo di buone cose però tutto arruffato non come la prima mezz'ora sicuramente no no io sono stato sempre contento io sono contento ogni partita perché so quello che abbiamo quello che possiamo fare e non siamo rimasti mai delusi facciamo per me otteniamo e facciamo sempre qualcosa in più per la grande voglia il grande sacrificio che ci si mette in tutto questo